Confermato il vertice del centrodestra? No. Davano per oggi? Ma voi scrivete tante cose che poi non sono ne da confermare o ne da smentire perché non ci sono. Trilusconi si è messo contro anche sulla via della Sina, che ne pensa? Condivido la necessità di essere estremamente prudenti e cauti. Qual è la sua preoccupazione maggiore? Perché Di Maio dà la situazione. Io sono preoccupato per il derby di domenica. Da Leonardo a...